La Cisle e la Cigelle di Teramo hanno inviato una nota ufficiale al sindaco Gianguido D'Alberto in qualità di presidente del Comitato Ristretto dei Sindaci dell'Asla di Teramo per richiedere un incontro urgente sulla sanità teramana. Le due organizzazioni sindacali chiedono di avviare un confronto sullo Stato e sulle necessità della sanità locale. Il primo intento è quello di trovare soluzioni da adottare per attenuare i disagi dei cittadini attraverso interventi comuni. I problemi insoluti sono tanti e vanno dai ripetuti ritardi delle prestazioni da garantire all'utenza alla continua riduzione dei servizi e prestazioni sul territorio che inevitabilmente si scaricano sugli ospedali sempre più incapaci di garantire perfino l'ordinario. C'è poi la cronica mancanza di personale sanitario che mette in crisi l'intera rete ospedaliera. Tutti questi problemi, affermano Cigelle e Cisle, non fanno altro che far percepire alla gente un elevato grado di inadeguatezza della sanità pubblica in generale, oltre all'impressionante flusso di mobilità passiva che impoverisce l'intero territorio e costringe la gente a scegliere se curarsi o continuare a soddisfare i propri bisogni primari più impellenti. Dunque per le due sigle sindacali teramane non si può più rinviare un progetto condiviso che porti ad un rapido aggiornamento e ad una modernizzazione di tutte le strutture operanti sul territorio. Servono in definitiva nuovi, efficienti e efficaci servizi sanitari che diono risposte alle tante esigenze della collettività teramana.